notizie alfa tech dal mondo è accaduto a rovigo nella fattoria cocodè la signora galletti voleva spennare i suoi polli con la forza bestiale di bidone aspiratutto denunciata dagli amici degli animali la signora galletti ha promesso che d'ora in poi userà bidone aspiratutto solo per la raccolta del grano bidone aspiratutto e bidone silent perché il mondo è sparco